Amici di TV Bialar, buonasera a tutti e bentrovati dal Bacchetti Stadium. Questa sera non è una sera come tutte le altre, perché è l'occasione per raccontare la epopea di uno dei più grandi atleti che la storia dello sport abbia mai avuto modo di conoscere. Stiamo parlando di Roger Raya, che vediamo in questa occasione alla destra dei nostri teleschermi con la consueta fascetta tra i capelli, fa il pugnetto perché ha appena fatto il break. Diciamo l'occasione ghiotta per raccontare la storia di questo grandissimo campione. Mentre si va ad abbeverare dopo aver fatto il break, parliamo di Roger Raya. Roger Raya nasce in quel di Basileo Calabro in una data imprecisata tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Pur essendo ormai conosciuto Urbi e Torbi come un grandissimo campione del tennis, in realtà da ragazzino, da bambino dava il meglio di sé sul campo da calcio, tant'è che fu presto notato da Enzo Berzot che colpito dalle doti di questo fanciullo, tanto qui fuori campo, dalle doti di questo fanciullo decise di convocarlo per i mondiali di Spagna 82, dove però essendo troppo giovane ancora e quindi non potendo tecnicamente scendere in campo, gli fu messo un paio di baffoni finti e il soprannome di zio, intanto guardate che smash spettacolare, mamma mia, il soprannome di zio e il nostro Roger Raya vinse i mondiali di Spagna 82, fra l'altro marcando in finale niente popò di meno che Karl-Heinz Rummenig. Dopodiché però le sue eccezionali doti atletiche lo portarono anche a cimentarsi in altri sport e sempre negli anni 80 lui si divise tra lo sci nella stagione invernale dove era conosciuto come tomba la bomba e vinse le olimpiadi di Calgary e di Albertville in slalom speciale, mentre nel stagione estiva, nelle altre restanti stagioni si dedicava al tennis dove con il nome di Pat Rafter, prima di Stefan Edberg poi e di Pete Sampras, successivamente vinse una serie di slam impressionante. Dopodiché diciamo la sua storia tennistica ebbe un punto di svolta nei quarti di finale di Wimbledon del 2001 quando sconfisse se stesso, quindi Roger Raya sconfisse Pete Raya e da quel momento in poi Pete Pat Stefan Raya divenne Pete Pat Stefan Roger zio Alberto Raya, un giocatore capace, un atleta capace dei massimi exploit in ogni sport e in ogni situazione, dopodiché non pago dei grandissimi successi tennistici, dei numerosissimi slam vinti, decise di tornare in finale di carriera anche sui campi di calcio vincendo sotto lo pseudonimo di Mauro Camoranesi anche i mondiali di Germania 2006, quindi chiudendo il cerchio di tutta la sua prestigiosissima carriera sportiva e mettendo l'ultimo trofeo in bacheca, il prestigioso trofeo di campione del mondo che già aveva vinto addirittura nel 1982. Detto questo, quando uno è un campione a tutto tondo come il nostro Pete Pat Stefan Roger zio Alberto Raya, lui non può fermarsi, naturalmente non può appendere lo strumento del suo successo al chiodo come ha fatto per esempio Jean-Jean Fédry recentemente, ma ha deciso di mettersi alla prova, di sfidare se stesso, questa volta disputando i tornei WTA, quindi dedicandosi al tennis femminile. Tant'è che questa sera, come voi potete notare, viene sfidato, comunque incrocia la racchetta con una gentile donzella, quindi Pete Pat Stefan zio Alberto Roger Raya questa sera è nella versione di atleta in gonnella, per cui avremo modo di ammirare tutta la sua immensa e infinita classe. Adesso il punteggio non lo sappiamo, ma lo chiederemo. Score? 2 a 0 Roger? 2 a 0 Roger che alza il pugno al cielo, perché lui comunque in qualunque situazione deve essere il primo, deve primeggiare, giocasse a biglie con il nipotino di due anni, lui comunque deve portare a casa il trofeo. Punte di 2 a 0, bellissimo il servizio della Francesca Cedrone, grande volé, Roger Raya, pallonetto in controbalzo, eh ragazzi, e quando c'è la classe, quando c'è il talento, non importa che cosa tu stai facendo, alla fine la tua classe splenderà in ogni caso, per cui se Roger Raya si dedicasse alle freccette diventerebbe anche lì campione indiscusso. Adesso noi non sappiamo se col passare del tempo, e comunque anche lui, sebbene un atleta incredibile, comunque possa risentire degli anni che passano, e magari potersi dedicare a qualche sport un po' meno usurante dal punto di vista atletico, potremmo forse ammirarlo, campione di golf, piuttosto che gran maestro di scacchi, questo solo il futuro saprà dircelo, quello che possiamo sapere con certezza è che un campione baciato dal talento come lui non rinascerà facilmente per molti decenni, per cui godiamoci il piacere di poter, la fortuna di poter assistere alle esibizioni di questo campione assoluto, che per esempio adesso fa una splendida volé nel proprio campo, ma è senz'altro per una grande sportività e cavalleria, galanteria nei confronti della sua avversaria, perché lui comunque sicuramente ben conoscendolo non vorrà stravincere ed umiliare la propria avversaria, stiamo un po' a vedere, godiamoci in silenzio qualche scampolo di match del nostro pit pat stefan roger zio alberto raya bello il servizio fuori di poco, cos'è doppio fallo? no, tira la seconda ok, roger raya in versione ingonnella è un piacere che ancora non avevamo avuto modo di ammirare, intanto qui è fuori e il fatto che lui si stia dedicando, lui, lei, adesso non sappiamo più come poterlo chiamare, poterla chiamare ci vorrebbe, comunque bisognerebbe usare l'inglese forse un'altra lingua dove il genere non viene specificato, ma comunque il fatto che Roger Raya, chiamiamolo Roger per semplicità, ormai si sia dedicato solo al tennis femminile è confermato anche dal fatto che nella classifica sociale del CTC Bialar il suo nome è evidenziato da una bandella rosa, come succede per le giocatrici, per evidenziare comunque che la classifica, per quanto le atlete facciano la stessa classifica degli atleti maschi, comunque il fatto che ci sia la bandella rosa dà un significato particolare alla classifica di ciascuna giocatrice, come giusto che sia, perché insomma essere numero 40 della classifica o comunque la prima tra le bandelle rosa è comunque una cosa di prestigio. Adesso chiederemo a Roger Raya la sua bandella rosa dove lo vede in classifica, Roger scusaci abbiamo notato che tu hai la bandella rosa in classifica sociale, volevamo sapere in che posizione sei, ma in assoluto 21 quindi pur essendo 21 della classifica Bialar è comunque non è neanche la prima della classifica femminile, intanto serve in volley e qui basta basta l'accenno alla discesa a rete per terrorizzare la sua malcapitata avversaria che Timorosama riesce a rispondere per la bella e meglio ma mettendo la palla sul muro di recinzione, quindi 15-0, serve in volley, serve in demi-volley, pallonetto, smash, in grande scioltezza beh quando la classe è assoluta non c'è avversario che tenga o avversaria che tenga, 30-0 serve in volley e questa volley è terrificante, un metro fuori la riga di fondo, troppa sufficienza da parte di Roger Raya che gioca troppo consapevole di essere un atleta di caratura così superiore, intanto risposta lunga di poco e qui il servizio al corpo mette in difficoltà la sua avversaria e 40-15 ripete la prima vediamo Roger un pochino appesantito, ci sembra un po' doversi rimettere un pochino in forma evidentemente il tennis femminile lo stressa relativamente e quindi è meno attento alla sua forma fisica serve in volley, pallonetto, volé, altro pallonetto, anche questo è lungo, il passante è lungo 4-0, 4-0 Roger, si vola dice, si vola, l'atleta di Basileo Calabro non ha pietà per nessuno come tutti i grandi campioni quando è in campo l'avversario è solo un nemico da eliminare non c'è speranza né pietà, tanto buona la prima ma risponde bene Roger Raya, bruttissimo questo rovescetto in back è un po' stitico, un po' sufficiente, un po' fermo sulle gambe quindi dovremmo dire a Roger Raya di sentirsela meno calda e di impegnarsi un po' di più Roger ti vediamo troppo sufficiente, devi essere un po' più cattivo sei teso? sei teso? la posta in palio è importante giustamente, lui è molto teso questa è lunga e questo è il doppio fallo ah si ripete? no? quant'è? 15 pari, certo un match così importante è normale che ci sia tensione da parte degli atleti in campo 15 pari ormai c'è da dire che questo match Raya-Cedrone è diventato un grande classico del tennis WTA vediamo che praticamente ogni settimana è in cartella è in cartellone questo match e d'altronde quando si gioca ad alto livello alla fine spesso e volentieri si finisce per affrontare sempre gli stessi settimanalmente quindi ci pare questa pure è lunga e questa è lunga pure, 0-30 no, 15-30 è molta tensione, molta tensione in campo da parte dei due atleti comunque, Roger Raya annunciaci che cosa farai adesso in risposta un back di rovescio e scende a rete un back di rovescio e scende a rete, vediamo un po' colpisce di dritto e non scende a rete controbalzo e beh però ragazzi, che tocco, delizioso sì, e questo è da televisione anche se lo slice è il back di rovescio e la discesa a rete ancora la stiamo aspettando ah, ecco perché siccome l'avversario l'aveva sentito ha dovuto cambiare, abbiamo capito 15-40 e ancora due palle per il 5-0 Roger eccolo qua col terzo doppio fallo del game si porta sul 5-0 il nostro pit pat stefan zivo alberto roger raya vediamo, cambio campo il body language della personale di Roger Raya è un po' sconsolato